Simbolo della corsa, della resistenza e del coraggio nell'affrontare questo difficile momento, ma anche segno di speranza in un cambiamento per noi e per il Paese intero. Libera, Signore, i cuori da tutte quelle forme di egoismo che impediscono di riconoscere il valore della dignità e del rispetto della persona, così che possa risplondere e risplendere sul mondo del lavoro la tua benedizione.